Se stai avviando una nuova attività, un nuovo business, devi tenere in considerazione alcuni elementi. Il primo lo abbiamo visto ieri, quello di diventare una soluzione che risolve un problema sentito dalle persone. Senza questo elemento nessun business potrà crescere oltre un certo livello. Anzi, difficilmente riuscirà a penetrare il mercato proprio perché non ci domanda, quindi non ci sono persone disposte a spendere per comprare il tuo prodotto o servizio. Il secondo elemento riguarda il trovare un modo per proporre il tuo prodotto o servizio, per cui hai individuato un problema che il tuo prodotto o servizio risolve in maniera eccezionale. Ottimo, ora devi comunicarlo perché il passo successivo infatti è avere una strategia che permetta di far sapere che tu esisti, che risolve un determinato problema, che sia innovativo e diverso rispetto ai tuoi concorrenti o alle soluzioni che ci sono sul mercato ad oggi. Quindi quello che devi fare è avere un piano per trovare i primi clienti perché questo è fondamentale. Un'azienda è come un'automobile, può avere il miglior motore del mondo ma se non ha la benzina non si sposterà e la benzina per un'azienda sono i clienti. Quindi il primo passo da fare è proprio quello di avere una pianificazione su come troverai questi clienti. I modi sono pressoché illimitati, puoi sfruttare la pubblicità online, puoi sfruttare la pubblicità offline, il passaparola, iniziare dagli amici, non è importante il come. L'importante è che tu abbia un piano in modo che non ti troverai come fanno tantissimi imprenditori a lanciare il proprio business e aspettare con le braccia concerti che i clienti arrivino da soli perché non succederà. Oggi le persone hanno mille distrazioni, per ogni tipo di problema ci sono già altre mille soluzioni, i concorrenti sono tantissimi, di conseguenza devi partire già con un piano. Poi non è detto che il piano che hai in mente funzioni al primo colpo e a quel punto dovrai addirizzare un po' il tiro, ma se sai già qual è l'obiettivo ti muoverai per realizzarlo. Quindi ho deciso di iniziare con il passaparola. Ha funzionato poco. Ok, potevi prevederlo? Sì, probabilmente, ma pazienza. Ok, questo non funziona. Troviamo immediatamente, il più velocemente possibile, un altro modo per portare degli sconosciuti a noi e trasformarli in clienti, perché la prima priorità deve essere questa, trovare i clienti. Quindi se stai per avviare un nuovo business, una volta che hai identificato che problema vai a risolvere e come e perché le persone dovrebbero sceglierti, prepara un piano per trovare i clienti, perché senza di loro nessun business può né partire né sopravvivere. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, non importa quanto sia bello, quanto sia innovativo, quanto sia fantastico il tuo prodotto, il tuo servizio, perché se nessuno lo conosce, nessuno lo comprerà. E questo è un punto chiave che devi stamparti ben a mente, perché troppi imprenditori danno per scontato che sia sufficiente avere un buon prodotto o un buon servizio per lavorare, ma se nessuno lo sa, nessuno lo potrà comprare. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!